Ciao, mi chiamo Martina Bernocchi, ho 23 anni e sono nata e cresciuta a Roma. Ho iniziato a studiare recitazione partendo con il teatro a circa 12 anni e poi non ho mai smesso. Qualche giorno fa, posso dire con estrema gratitudine, si sono concluse le riprese del primo film a cui ho partecipato come coprotagonista e è stata un'esperienza veramente, penso, la più significativa della mia vita finora. Suono l'Ukulele, faccio slam poetry, ovvero poesia performativa e sono rappresentata dalla Cantare Management. Ora vi faccio vedere le mie mani e i miei profili. Vi ringrazio tantissimo per l'attenzione e spero di sentirvi presto. Ciao!